allora questa sera purtroppo la puntata in cucina con frez non la possiamo fare perché ma come sa da fare con tutto sto bordello che c'è però io qualche cosina di quello che andrei a mangiare ve lo posso qui abbiamo messo a fare ovviamente ancora crudo il sugo con le seppie affocate nel sugo e peperoncino e piselli che saranno anche la base del condimento della pasta per domani a pranzo perché non fatta una cardara petto led fritto di cavolfiore cipolline questo è il preparato perché che zoppiera che servirà a fare il condimento della pasta questa è la pasta allo scoglio per questa sera quindi ho usato per un chilo e mezzo di pasta due chili e tre di pesce questi sono i gamberoni gamberoni argentini che faremo e la ricetta classica gamberoni in padella al vino bianco se non la conoscete andatevelo a cercare è una ricetta semplicissima vabbè ve lo dico questi li dovete tenere belli asciutti eh belli asciutti ovviamente dei congelati se sono congelati e mettete una base d'olio con l'albio un po di prezzemolo sale e pepe li fate girare due minuti tre minuti massimo per parte e poi sfumate col vino bianco quando è evaporato l'alcol del vino bianco riservi da tavola caldi e vi mangiate e tanti auguri poi abbiamo fatto un po di baccalà e patate ma poco perché io non è che bado tanto a presa del baccalà e poi poi un po di bavoli la piattela giusto per affettarlo non lo so poi strada facendo se vede quello che volevo mangiare mangiare penso che dopo tutto sto ben di dio che devo mangiare dopo che ci ha mangiato pure il pane perché poi col sughetto dei seppi e con i piselli c'è il suppi pure il pane specialmente alla grossa e quindi niente torniamo ai fornelli sicuramente ci starete pure voi o i vostri genitori al posto vostro non lo so se siete fortunati ci avete i nonni che stanno a cucinare se siete sfortunati come me fino a un certo punto perché a me piace vado a cucinare tutta quanta voi e quindi buon Natale